Siamo con la professoressa Annalena Manca, dirigente scolastico dell'Istituto Don Tonino Bello di Tricase, scuola capofila del progetto musicale finanziato dal MIUR. Professoressa, che progetto è stato e cosa vi ha lasciato? È un progetto importante, è un progetto della buona scuola che abbiamo avuto così l'idea di attivare insieme con altre due scuole della Regione Puglia, il Fracca Creta, l'Istituto Fracca Creta di San Severo e l'Istituto Minuziano di San Severo. Quest'idea è nata da un incontro fortuito con il maestro Andrea Gargiulo, che si occupa da tantissimo tempo insieme con Tonino D'Angelo dell'Art Village, di costruire intorno alla musica l'accoglienza delle persone che come portatori di interesse vogliono essere in qualche modo aiutati a superare il proprio disagio. Perché quest'idea? Perché stiamo cercando finalmente di dare concretezza alle richieste che vengono dal territorio in termini di contenimento della dispersione, contenimento del disagio. Intanto nella buona scuola educare alla bellezza è uno degli obiettivi. Il collegio di docenti l'ha fatto proprio e quindi educare i ragazzi a riconoscere il bello nell'arte, nella cultura, nei buoni sentimenti, nella musica, nello stare insieme, credo che sia uno degli obiettivi fondamentali della scuola in questo preciso istante. Tra l'altro il metodo Abreu è un metodo già sperimentato in Venezuela, ha costruito delle orchestre giovanili stupende, la Simon Bulevar, orchestra e quindi perché non utilizzare queste strategie, questi metodi ormai sperimentati da lungo tempo nei nostri territori? Al fine di dare quelle risposte che a volte mancano in termini di concretezza per aggredire il disagio giovanile, per aggredire la dispersione, perché fare scuola, aprire la scuola a 360 gradi H24 fa sì che i ragazzi abbiano un punto di riferimento in noi adulti che ci siamo dentro e in attività che li fanno diventare creativi. I ragazzi in questo percorso hanno letto i territori, le storie e le musiche. Gli amici di Fracca Greta hanno così attenzionato una particolare giornata di una festa padronale dove ci sono i Fuentes, ci hanno raccontato questa cosa molto caratteristica, dove in onore della Madonna ci sono questi ragazzi che camminano sotto le batterie di fuochi d'artificio. Diciamo che è un po' pericoloso, però ci hanno assicurato che è un momento importantissimo di San Severo. A Tricase invece i ragazzi hanno voluto attenzionare i luoghi di incontro, i luoghi di incontro appunto di ritrovarsi in qualche modo e quindi essere un luogo dove loro si ritrovano a fare musica per me è importantissimo. Quest'idea me l'hanno anche in qualche modo fatta così percepire loro perché due anni fa tra le richieste di capire quali potevano essere le attività di progettualità per l'anno successivo i ragazzi mi avevano chiesto a chiare lettere la musica e tutto l'anno scorso loro hanno utilizzato degli spazi all'interno della scuola ogni venerdì dopo le lezioni mi chiedevano di utilizzare un'aula per fare musica. La cosa bellissima perché all'epoca noi non avevamo gli strumenti che invece il progetto ci ha consentito di acquistare. Loro si portavano gli strumenti da casa, quindi il tappeto, la batteria, le cose. Quindi la voglia di fare musica, di stare insieme era molto sentita e quindi abbiamo cavalcato quest'onda. Il progetto è partito lo scorso anno, è interamente finanziato dal MIUR e si concluderà sabato prossimo a Palazzo Quellone a Tricase. Sì, si concluderà sabato prossimo a Palazzo Gallone a Tricase verranno a trovarci ancora una volta agli amici di Sansevero noi domani andremo per la giornata finale a Sansevero invece delle loro performance e stiamo già iniziando a pensare al dopo perché i ragazzi mi hanno detto Preside, vabbè, i sabati o noi ogni sabato mattina noi facciamo settimana corta un po' da un po' di anni il sabato mattina la scuola si apriva, noi eravamo qui, facevamo musica e adesso e allora la sfida di sabato è che ce ne dobbiamo andare con delle idee per l'anno prossimo per continuare questa esperienza che secondo me è stata importante.